e la Genova Calcio ha lo studio di Girona Slamano Sicuramente è un impegno quando si è scelto questa maglia ma l'impegno è stato messo veramente a dell'ingredibile cosa che questa società ha fatto e ha dovuto combattere con tutto quello che gli era ancora si potrebbe veramente scrivere un libro ora dobbiamo invece combattere in campo trovare ancora dirigenti che ci diano una mano ma non sto parlando finanziariamente solamente ma sulla competenza della dirigenza perché se non si riesce la nostra è una società con 500 iscritti con mediamente tre volte i problemi della società normale speriamo che la situazione di Sampdoria si sia sistemata sapessi quanto mi auguro io lo dico ingenuano perché la dirigenza della Genova Calcio è ingenuano però si può essere perfetti però ragazzi dateci a vedere poi delle soddisfazioni perché delle meritate voi grazie a tutti i presenti grazie a tutti i presenti grazie a tutti grazie